Ciao Paola Ciao Mirna cara Da tempo mi chiedevo quando mi avresti telefonato Lo sapevo che presa dalla curiosità prima o poi avresti finito per farlo Paola mi spieghi di che stai parlando Della ragione per cui mi hai invitata Io ti avverto, io ti avverto Cerca di proteggere Giulia altrimenti ti giuro che io... Sam, Tyler, ditemi di Giulia come sta C'è Sam qui che le racconterà tutto Io vado accanto a Giulia Il matrimonio di Clarisse, Giulia Cara, grazie a Dio, è stato un tale spavento Sto bene mamma Siamo stati molto in pena per te principessa Ora sto bene, credete, grazie a Tyler Sei stata sottoposta a una prova terribile Ma adesso è finita, sei a casa Ci penseremo noi a circondarti di ogni cura Povero amore Ma hai una febbre terribile Sloan, vieni, ho bisogno di parlarti Tyler Come sta Ellison? Mi è tanto manca Ellison sta benissimo La posso vedere Questo non lo so cara Non fanno entrare i bambini all'ospedale Ci penserò io Oh papà, riuscirei davvero ad ottenerlo Penso di sì Provvederò a questo e ad altro D'ora in poi Grazie a tutti Grazie a tutti